Ciao ragazzi, ciao a tutti, nuovo episodio di The King of Games, oggi come combado per un nuovo video unboxing. Oggi finalmente esce la collezione leggendaria 25esimo anniversario. Il packaging è un po' diverso, un po' più stretto rispetto a quella vecchia, ma il contenuto è sempre lo stesso. Con le carte ristampate delle vecchie prime espansioni, con un po' di carte promo e una promo speciale in ogni busta, che ha una rarità parallela, se vi ricordate, le vecchie Obie League, però con il watermark del 25esimo anniversario. Senza indugiare ragazzi, piccolo avviso del parroco e poi iniziamo subito. Ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirci su tutti i nostri social che trovate in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video, sui contenuti di Yu-Gi-Oh! Giochi di carte collezionabili e soprattutto anche su contenuti di altri giochi. Bene, possiamo, senza indugiare, passiamo direttamente all'altra cam che ci fa vedere il nostro boxettino, che apriremo con Agil Mossa. Allora, la scatolina è molto bella, riesce poi a diventare un ottimo contenitore per le carte. Qui vediamo le promo, qua le bustine, che poi vedremo bene quali sono, e la scatolina comunque che, dai, non è male, la useremo per le spedizioni. Allora, al nostro interno c'è appunto le promo, poi la primissima espansione, Leggenda del Drago Bianco Chi Blu, Predoni Metallici, Sovrano della Magia, Servitore del Faraone, Crisi Oscura, e Invasione del Caos. Ora, non ne apriremo una, non ne apriremo due, ma ne apriremo ben tre. Quindi, apriamo anche le altre, così facciamo un opening molto diretto. Ecco qua. Mettiamo tutte le varie bustine. Ollè, si vola. Eccoci qui. Ecco qua. Adesso le bustine le mettiamo un attimo da parte, e apriamo le promo. All'interno, come abbiamo detto, ci sono alcune carte promo, e una carta che ricorda molto le rare parallele. Ora, andiamo, c'è Obelisco del Tiranno, c'è Obelisco il Tormentatore, Slifer, e Ra, che sono ovviamente non giocabili. All'interno, poi c'è Drago Bianco Occhi Blu, versione Tavoletta, Mago Nero, versione Tavoletta, Drago Nero Occhi Rossi, e in questa bustina abbiamo Drago Alato di Ra, Raro Parallelo, 25esimo Anniversario. Le bustine sono sempre uguali, quindi soltanto l'ultima carta, che cambia. Ergo, qui abbiamo Obelisk, nella seconda. Mentre nella terza, Mentre nella terza abbiamo, Uh, Drago Nero Occhi Rossi, Parallelo 25esimo. Sì, tutte le carte che troviamo qui all'interno, possono essere trovate, randomicamente, rare 25esimo Anniversario. Poi le imbustineremo. Partiamo subito, partiamo con Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu. All'interno ci sono, come sempre, 9 carte, ma a differenza delle nuove espansioni, qua la foil non è garantita. Quindi, Terra del Tribile, Yami, andiamo un po' con le vibes, Kagemusha della Fiamma Blu, Energia Oscura, quindi se alla quarta carta non c'è la rara, purtroppo, non ci sarà la foil. Duplice attacco, Vento in seguitore, Spettro Oscuro, Riflesso Evocatore numero 2, e Libro delle Arti Segrete. Prima busta, purtroppo, che non ci regala una foil. Non devo fare il trick qua. Non lo facciamo perché... No, volendo dico. Eh sì, volendo, ma... Tiano Oscuro, Fabbrica di Macchine, Tartaruga Tigre, abbiamo la rara, la quarta carta, quindi abbiamo una foil. Quindi qua si trickiamo. Ancora Libro delle Arti Segrete, Uccello, Teschio Rosso, Riflesso Evocatore, Raggio e Temperatura, non riesco a leggere bene al contrario. E... Bucotrappola, super raro. Ricordiamo che, se pensate che queste carte siano inutili, ricordatevi che esiste il formato Time Wizard, che ci consente di utilizzare le banlist vecchie, anche quindi le espansioni vecchie, quindi per i più nostalgici è possibile, tornare indietro nel tempo e giocare le prime espansioni. Anche qua purtroppo la foil non c'è, cura segreta Goblin, tanti gialli, ma di elettrovestia, zanne della bestia, pozione rossa. Diciamo che linea di massima è comunque una ristampa per nostalgici. Sì, sì, è assolutamente una ristampa per nostalgici. Partiamo a Predoni Metallici, speriamo di trovare una foil per ogni espansione, ma... Giraigumo, mamma mia, 2002, 4 stelle, era fortissimo questo. specialmente quando giocavi Risucchi Abilità, che c'era il Beatdown. Giocoliere Devastante, Scudo e Spada, questa carta ha salvato Joy tantissime volte, doppio della Regina, Koji Kosi, come cavolo, Centauro Mistico, e Pungiglione a Sasseno. Siamo alla seconda busta di Pregioni Metallici. Drago Strisciante, Drago del Tuono, Drago del Tuono, che comunque sia, appena verrà sbannato il fusione, Occubim, attenzione, Re Musicista, anche qui il protocollo non avremo la foil, Stregone Mascherato, buono, Fiore dell'Arcobaleno, Demone Selvaggio, Abitatore degli Abissi, Squallo degli Abissi. Una foil su 5 busta è un bel pull, e oggi vado, allora di norma, allora di norma dovrebbe essere garantita una foil per ogni collezione, vediamo un po', quindi ne dovremo trovare almeno 3. Modiglione di Lava, ancora giocavi lì, è devastante, Oku Kuchi, attacco Kaminari, che comunque sia, è ancora utilizzata, sempre in un mazzotuono, Mago della Fede, che, ah beh, Elefante, Garneccia, qui però abbiamo trovato la quinta carta, quindi il triccone, il triccone incredibile, Predoni Metallici, mi rimanda a quella incredibile lei che abbiamo fatto con Teidoro, ah sì, il Drago di Millenario, poi il Bleed, già, strega oscura, Nuzzler Manevolo, Nuzzler Manevolo, ragazzi, questo è furtissimo, con Mahavailo, questa cosa qua era, una delle carte più forti del gioco, Mura Labirinti, che ricordiamo stampate in Labirinto delle Memorie, l'Agile Momonga, perché comunque sia, l'Agile Momonga, era una carta fastidiosissima, ragazza arciere, mi oggi del mare, Ricastro Goblin, oh ragazzi, Ricastro Goblin, che mettiamo insieme alle foil, nonostante tutto, il sarto, in costante, Ricastro Goblin, che, ragazzi, Ricastro Goblin, è Ricastro Goblin, quindi, c'è, è sempre una carta utile, è tutt'oggi, quando vuoi giocare 39 carte, in Giappone, puoi giocare 37, ancora mi pare, Servo del Custore di Tombe, anche questa qua fastidiosa, Specchio di Mano di Fata, Giramento della Tartaruga, Rituale, Esplosione Ombra di Hiro, Esploratore, perdon, Puratore della Luce, Puratore della Luce, super raro, e questo, abbastanza fastidioso, perché faceva macrocosmo, Mangiafiamme, Inizio delle Danze, che anche qua, era una rituale, tanti rituali, ma non ci sta andando malissimo, Guardiano del Trono, Minar, Grigol, Prestazione della Spada, e della Prendi con l'inizio delle Danze, Mangari Uranna, che è sempre una carta toon, ricordiamo, Campana Cerimoniale, Pesino Lampo, Ragazza Arciere, e Zona Mistica del Plasma, questa la usavi nei mazzi dark, per diventare ancora più incredibile, con il Big Town avevi forzato, attacco goblin, che diventava un 2008, 4 stelle, che buttavi così, passiamo a Servitore del Faraone, Dono dell'Elfo Mistico, anche questo, Sonda Mistica, Teschio Marino, Rafica di Vento, Bambino Vampiro, come rara, poi Ispezione, Imitazione di Insetto, questa è molto buona, Cedimento del Suolo, e Soppressione del Mondo, Ah, Cedimento del Suolo, non ho un aggiornato del fatto che ci sia la Extra Zone, relativamente tu potresti bloccare anche un Extra Monster Zone, Drago di Fuoco Bifronte, Sigilo del Tempo, carta sbannata di recente, Cucinale del Destino, Intervento sul DNA, ha un altro Bambino Vampiro, Orco d'Acciaio, Tigre, Bianca Reggente, una Reduzione Infinita, e Lancia Incantata, che è questa fastidiosissima, soprattutto nei giochi, perché la usava Pegasus, mamma mia che vibes ragazzi, allora, Soldato di Fuoco numero 1, Arce Inarrestabile, Invito il Sonno Oscuro, Campione delle Fiamme, Invito del Teschio, questa è esatta, ancora in Master Duel, nei mazzi Burn, quello brutto, Azzardo, Insetto Trapano, Pipistrello Oscuro, e Gradius, e niente foil per Servitore del Faraone, passiamo a Crisi Oscura, ma noi puntiamo effettivamente a Invasione del Caos, dove c'è la ciccia, Carte Preziosa dall'aldilà, Prova del Fuoco, Ladro dell'Arsenale, Disperazione dall'Oscurità, questa era molto forte ai tempi, Arcidemone, Alfiere Oscuro, scusate, avevo un strano riflesso, Un Accordo con l'Arcidemone, Dark Scorpion, Contratto con Exodia, e Kelbek, la prima versione di Kelbek, che effetto aveva? Se questa carta viene attaccata da un mostro, dopo il calcolo di danni, fa tornare quel mostro nella mano, ok, Kelbek, che adesso ha una versione molto più forte, Maggio Garzet, Difensore Incrollabile, questo rompeva abbastanza, il Pandone, Predone Cibernetico, Guardiano Bao, Anima Congelata, Samurai Sasuke numero 2, Orso da Guardia del Pandemonium, e Bacchetta del Silenzio, non mi ricordo male, c'era anche il Pugnale a Farfalla, che però non mi ricordo dove usciva, una scarta ultra bannata, Pandemonium, Dark Scorpion, un altro Dark Scorpion, oh oh, qui potrebbe esserci, Cancello, nell'altra dimensione, Dissoluzione Magica, Counter Trap, un altro Kelbek, Trascinato nella Tomba, questa è usata ancora, Cicatrice di Guerra, e Keldo, troviamo anche Keldo, che effetto aveva Keldo, prima, se questa carta è instruita in battaglia, da una carta al cimitero, scelgo come il bersaglio, le due carte nel cimitero, l'attroversario, mi scale nel deck, e hanno gli effetti simili, a quelli che avevano vecchi, però adesso, li hanno fatti un po' più, rotti, infatti sono a uno, giga gagagigo, perché assolutamente, questa carta è, assenza di gravità, questa carta è molto forte, assorbi anime, Spirito dell'Anfora della Vita, Shuriken Fuma, Recupero, Vattenera Druncolo, e Crollo Spaziale, e Grimmaggio da Eza, Grimmaggio da Eza, che comunque è, è ancora usato nel, nel, nel mazzo, nel mazzo a lui dedicato, banni l'impossibile, poi attacchi con questo, che è tipo enorme, lui è un insetto di Giada, Trapianto di DNA, siamo a Invasione del Caos, eh, quindi, nuovo insetto, Ascia da Guerra Infuriata, o Giamma Nero, Zombie Fuso, Granadora, e Gigantes, questa è usata ancora, carino come si trovino carte, che, che anche, che ancora oggi, oh no, oh, c'è un taglio brutto di una carta, ma male che è una Common, che emerge un eroe, Grande Koala, Inferno, Multiplicazione delle Formiche, Coccinella, del Dorso a Teschio, Sparizione a Catena, eh no, Pesce Torpedo, Fenrir, e fatto delle spine, bene, che dire, cosa abbiamo trovato, di interessante, tra le Common, Gigantes, Gremmaggio Deiza, e Ricastro Goblin, che comunque sia, non fanno esattamente schifo, e purtroppo abbiamo trovato, solo delle Super Rare, abbiamo trovato, quattro Super Rare, quindi uno in più, di quelle che mi aspettavo, Bucco Trappola, l'Elefante, Garnetia, Eppuratore della Luce, e Dissoluzione Magica, Ragazzi, purtroppo, non abbiamo trovato le bombe, ma sicuramente, ci rifaremo, con i Box, che usciranno, questa estate, io vi saluto, vi do appuntamento, al prossimo video, e speriamo, di essere più fortunati, la prossima volta, ciao!